Oggi giornata epica, vi spiego dopo, no spoiler, partiamo Vi faccio vedere solo che sono in questo posto qua, ma non vi dico niente Ragazzi ho qui lo scontrino ed è arrivato il momento di dirvi che cosa ho preso oggi Ho preso l'Apple Watch serie 9 Così adesso ho l'iPhone, il MacBook, l'iPad e anche l'Apple Watch E ho completato il sistema iOS finalmente Mi mancava solo l'Apple Watch e le cuffiette che però per ora ho ancora le Galaxy Buds Quindi c'è ancora un piccolo pezzettino del puzzle da completare Ma adesso non ne ho necessità, quindi magari più avanti quelle Ma è arrivato il momento di dirvi perché sono da solo Danny non sa niente, quindi oggi ho preso l'Apple Watch Ve lo faccio vedere, lo apriamo insieme Tranquilli che dopo ve lo faccio vedere meglio con il mio amico Che è anche lui esperto di tecnologia E tra l'altro lui ha anche le AirPods Pro 2 da farmi provare Quindi magari proviamo anche quelle in questo video Che così vediamo se mi convince a comprarle o meno Comunque non perdiamoci in piacchiere perché siamo stretti con i tempi Spellicoliamo queste Apple Watch serie 9 Queste, queste, questa Apple Watch serie 9 Dio santo non ve l'ho neanche fatto vedere Guardate qua, non si vede niente Si si vede, si vede, Apple Watch Non pensavo che la confezione fosse così come quella dell'Apple Pencil Che figata, si apre così e ci sono questi orologi Qua c'è l'orologio L'Apple Watch serie 9 Qua il cinturino immagino A questo punto Apriamo prima il cinturino Scusate se si vede pure il volante Ma faccio veramente in velocità perché Eh, sì Un cinturino è un cinturino Non c'è niente di che Hanno fatto una scatola assurda per un cinturino normale Non capirò mai Apple Come fa a far pagare così tanto i certi prodotti Tipo la base di ricarica a 160 euro Quella per i tre dispositivi Io l'ho presa gratis su Temu Andatevi a vedere il video Una e due Non sono proprio semplici eh Da strappare queste robe Eccolo qua Ho buttato tutto in parte lì Dopo metto da qualche parte Che sennò me lo rubano Ci vediamo dopo con Fede Che è il mio amico Con cui faremo l'unboxing Bom, ci vediamo Ciao 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 Eccoci qua Siamo con Fede E oddio Lo so faccio Apple design by California Ah Low battery Low battery Mi sento Interessante iPhone, near, Apple Watch Ok Ma è là Lo configuriamo eccetera Ma prima proviamo Le potestrottando a dio Ecco Subito conquistato Allora Cioè ti sento ma Tipo in un'altra Devi stringere il feedback E dovrebbe emettere un suono Adesso in modalità trasparente Assurdo Mi senti? Sì ma Ok No perché magari mi dice di sì Ma ti sento tramite Gli altoparlati Microfoni I microfoni Cioè non pensavo così Tanto buono Assurdo Cioè il rumore Il suono Il suono Il rumore Dicono che sono Bilanciato Tutte le features Ragazzi Prossimo acquisto Ci si può pensare Ragazzi abbiamo studiato l'orologio Sa fare tante cose Facciamo una dimostrazione Fede mi chiama Io sono in macchina Stiamo arrivando a un incrocio In una statale Dove c'è tantissimo casino La sicurezza prima di tutto Esatto Non posso rispondere al telefono Come si fa? Ecco arriva il dream dream Io faccio così Ecco ha risposto Ciao Fede Cosa c'è? Senza difficoltà Riusciamo a comunicare E rimanere in sicurezza Esatto E noi possiamo guidare tranquillamente Perché abbiamo Le mani Su volante Per chiuderlo Sempre in sicurezza No ma perché È nuovo A questo Tipo Di tecnologia Quindi 3 hours later Intanto abbiamo Fatto un incidente Ehi Siri Chiudi la chiamara E altre cose Funziona bene La granella Come si chiama? La ringhiera La ghiera La ghiera Qua funziona bene E puoi visualizzare le chat Credo ci siano altre Novità Altre robe Ma in caso ve le faccio vedere Quando faremo vedere L'orologio a Dani Ringraziamo Fede Per la partecipazione A questo video Tra l'altro First time First time Quindi Ce ne saranno Un'altra Un'altra sicura In cui andremo A mangiare Qualcosa Ma io sono più Da tech review Quello si Però Mi hai proposto Tu di andare In un posto Si me l'ha proposto Due anni fa Ma vabbè Ero molto giovane Però va bene Ci vediamo Alla reaction Di Dani Ciao 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 Ed eccoci qua Con Dani Finalmente È stata malata Per due settimane Quanto tempo Ci ha voluto Per farti fare Sta reaction Abbiamo fatto Vedere a Fede Tutte le robe tecniche Abbiamo anche commentato Appunto insieme E adesso Voglio vedere La reaction di Dani Allora Qua ci sono tutte le applicazioni Quella che sto usando adesso E che è molto utile Questa qua Della fotocamera Che riesco a vedere Quello che stiamo facendo In questo momento Poi c'è la modalità sonno Che calcola Tutti i battiti cardiaci C'è la modalità allenamento Le chiamate Per chiamarti Per mandarti anche messaggi In diretta Anche audio Robe Il meteo Memo vocali Se voglio salvare dei vocali La musica La faccio partire direttamente da qua Diciamo che è come avere Un telefono Ma molto più vicino E più facile da utilizzare Ah è figo Quindi diciamo che È un semplificatore della vita Infatti mi sono reso conto Che non è essenziale Non è indispensabile Assolutamente Però avendo questo Riesci a fare molte cose Che prima non facevi Abbiamo visto com'è Questo Apple Watch Serie 9 Spero vi sia piaciuto il video Diverso dal solito Cercate di fare un'intro Molto più movimentata Poi Danny non sa niente Vedrà quando il video sarà completo Al raggiungimento di 40 like Vi porteremo nel backstage Del nostro canale Nel senso che vi faremo vedere Tutti gli oggetti di scena Tutta l'attrezzatura Che usiamo Dietro I video I nostri video Esatto Non c'è nient'altro da dire Iscrivetevi Attivate la campanella Lasciate like E ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao No c'è iscrivetevi No c'è nient' request No c'è No c'è jätte No c'è nient' perfection